La vittoria su Re Stefano presso Lincoln diede a Matilde un bel vantaggio nella lotta per la corona inglese. Ma negli anni a seguire le fragili lealtà cambiarono e sotto la minaccia della cattura Matilde fu costretta a ritirarsi mentre le sue proprietà in Inghilterra venivano attaccate dalle forze del re spettava a suo figlio Enrico mantenere viva la pretesa al trono di Matilde. L'assedio di Wallingford 1153 benvenuti in me molto altro io sono il meno arancione e ora andiamo a vedere questa battaglia. Allora Wallingford 1153 spero di averlo detto bene sentiamo. Devo difendere forte e sapevo che andava a finire male. Allora vediamo costruiamo un'altra cosa ok costruiamo un'altra di questa e magari un'altra ancora per ora così almeno riusciamo a a mettere tutti i balestrieri perché qua io la vedo male perché già ho capito che ci sono come funziona qua. Cioè guarda qua guarda distruggi al post in clip ecco so qua madonna 4 io sapevo che andava a finire male sta sto gameplay sta cosa. Allora vediamo qua intanto perché solo uno con la pietra dove è la pietra la pietra eccola mettiamo i popolani subito c'è anche dell'oro e volendo anche dell'oro. Allora facciamo così mandiamoci uno due tre quattro cinque sei popolani e poi magari li distribuiamo dopo. Qui serve da mangiare facciamo subito il potenziamento fertilizzazione che raccolgono più fretta. Allora vediamo qua. Allora metterei degli balestrieri anche qui vedi non posso più perché non c'ho l'oro. Allora qui abbiamo il legname ok vediamo cosa fare intanto mettiamoli questi qua in protezione riuniamo tutto questo esercito qui in un'unica cosa magari mettendola qua. Allora qua ci stanno arrivando i popolani però diciamo che l'oro mi servirebbe di più. Allora qua facciamo più cosa. Facciamo così. Nuovo attacco al castello. Quale attacco al castello? Aspetta. Fammo la pietra qua. Eccoli andiamo fuori che questi li dobbiamo distruggere con questo. Forza forza. Ecco loro attaccavano qui. Dottamogli il fuoco a questi. Vabbè non male. E rientriamo nel castello non potremo perdere queste poche truppe che ci avevo. Quanto meno ci pensa a sto castello qua. Qua sta a costruire la cosa. Perciò mandiamo qualche balestriere qua. Se possiamo. Perché vi muovete? Cannaggia la miseria. Ma chi va detto da muovere? Mettetevi qua. Mantenendo la posizione però un pochetto più di qua. Allora qua. Mandiamo i balestrieri. Possiamo farli e li facciamo. Qui li abbiamo ma non abbastanza. Qua servirebbero altri balestrieri. Qua stiamo costruendo la cosa. Qui stiamo bene ma servono i balestrieri più che altro. Allora vediamo qua com'è la situazione. Allora sti due mandamoli qua a loro. Ok. Che succede? Andano attaccati qua. Maledizione. Allora non ho fatto in tempo i balestrieri. Mi stanno a buttar giù pure la porta. Là. Dai dai. Ammazzali. 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 Ok. Ok. Va abbastanza bene. Però qualcuno che mi ripari questa porta. Ok. Andate a ripararla. Con i balestrieri me la stoccavano da... Eh questi escono. Ma è una cosa incredibile so. Ti ho detto mantenete la posizione. No. Mantenete sta cavolo di posizione qui. Questo vai a riparare. Sperando di fare breccia nelle fossenti mura di pietra di Wallingford. Le forze di re Stefano lanciarono un altro attacco. Ecco. Un altro. Allora andiamo qua. Eccoli. Eh trasferiamo qua. Vediamo. Eh arrivano parecchi qua. Mannaggia la miseria. Ok. Non dovrebbe essere un problema insommortabile. Però insomma. Andiamo qua. E là qua dovrebbero ammazzarli da soli. Se manteneste la posizione che vi muovete sempre. Porcaccia la miseria. State fermi così. Qui magari se riusciste anche a buttar giù sta cosa. Ve ne sarei anche grato eh. No. Qua servono i balestrieri come il pane. Ok. Qua ci hanno un po' ammazzato questi. Però diciamo vabbè. Ce stiamo. Ok. Questo è morto. Quasi. Ok. Quest'altri devono morire così. Arrivano l'altri qua. Le forze di Matilde rispinsero l'attacco. Eh mica tanto. Insomma. Ah ce ne vuole l'oro. L'oro lo stiamo facendo. L'oro lo stiamo facendo. Eliminando i soldati nemici. Eh sì ma morire grosso. Sono sicuro. Allora qui che cose abbiamo? Due. Eh due dei cosi. Non ce ne faccio niente. Allora. Vediamo un po' che fare qua. Ripalpiamo. Mettiamoci qui. Per carità. Andiamo qua. Tutti qua. Veloci. Veloci. Andiamo a ammazzare questi. Qui però non era stata riparata. Ah sì. È stata riparata. Oh. Mi ha buttato giù la cosa qua. Mannaggia. Sono entrati. Speriamo di no eh. Ma. Ma io dico. Ma io volete sparare qua. Porcaccia. La miseria. Ma come funzionate. Ma qui dovevate fa. Guardate. Guardate. Andiamo a ricostruire pure il castello. C'è le mura. Io dico. Ma io boh. Mo' prima che posso ricostruire le mura qua. Mamma mia oh. Balestrieri. Non ce n'è neanche uno poi. Mettiamoli qua. Questi ce li mettiamo qua. E noi andiamo a riparare la mura. La mura così. Ok. Eeeh. Vabbè. Ma guarda che rincoglioniti. Costruite ste mura. Che entra nei cavallieri. Ma non ve ne accorgete. Io boh. Fammo altri cosi qui. De questi. De questi. Eh mo' qui. Ma avete fatto entrare i nemici oh. Vediamo qua come se la cavano mo. Oddio mio. Vabbè diciamo che qua. Eh però ma arrivano chi i cosi. Diciamo un cavolo. Eeeh vabbè. Eeeh. Eeeh. E' brutto 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 brutto. Non so che che fa. Le forze di Matilde appresero che le truppe di Enrico si stavano avvicinando a Wallingford. Eh giusto Enrico ci serve. E' bene. Niente. qua che è tutti no hanno finito la pietra allora fammo una cosa costruimo tutte qua le cose hanno finito la pietra mandiamo però qualcun altro di questo qua è il legname ok qua rallentatore rallentatore a fa sto oro ma dai non c'è un potenziamento qua una cosa che può andare più veloce però se mi finisce l'oro è inutile allora qua fammo altre torri eccolo Enrico però proprio sbagliato qua si avvicinavano a Wallenford uniti sotto lo standard di Matilde eh Matilde dai almeno se un bel po' però prima di avanzare qua io vorrei mandare tutti sti cosi qui perché sennò poi ne mando più fammo così non ho più cibo vabbè diciamo che ho messo in bel po' ecco lì ammazza ammazzali andiamo da qua andiamo da qua sennò gli arcieri ci fanno fuori tutti dai dai ammazzali ammazziamo questi altri qualcuno l'altro l'è morto sicuramente dai ok ok andiamo a piccoli passi dobbiamo distruggere qua vediamo ecco gli altri cavallieri ok ok dai 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 cerchiamo di fare il nostro questi magari un po' più vicini dai 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 andiamo qua andiamo qua forza distruggiamo tutti questi andiamo subito a distruggere questa torre senza pensarci senza pensarci subito questa torre distrutta ok facciamo qua vediamo che fare andiamo un po' di ok insomma ok distruggiamo tutte ste cose qua ah pure questi sono rimasti ah pure questi distruggili ok qui come stiamo eh ci stanno a distruggere quasi eh ci hanno distrutta altro che quasi andiamo a riparare ma non non chiamiamo qua dai dai magari vedi così qua vediamo come sta andata la situazione niente di che eh però arrivano questi dai 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 cavallieri cavallieri ci servivano gli arcieri maledizione qua ammazza un po' dei cavallieri ok andiamo 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 a distruggere qua forza prima qui prima qui prima qui prima qui vai vai ammazza dai quelli che potremmo ammazzare forza questi che sono balestrieri ci fanno fuori tutta la cosa dai 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 ammazza 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 ok stiamo un po' a posto ok ora tutti qua boom 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 vai 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 la dovremmo qua vai diamo l'oro qua quello che c'è da prendere bruciamogli tutto liberando un'altra sezione del blocco non posso prendere l'oro lì io non so che sta succedendo al castello vogliono proprio a vedere mettiamo l'oro vediamo qua come la situazione è brutta brutta però si può migliorare facciamo una cosa qui qui potremmo anche riparare intanto ho perso tutti i popolani qua non è meglio riparare qui più che altro da dove sono i miei qua andiamo a aiutare e poi ritorniamo a andiamo a aiutarli eh ma ora arrivano l'altri ok qui qua e qua c'è un bel po' da riparare eh da più che altro la porta e tutto quanto eh allora andiamo a distruggere qua se è possibile farlo ok stiamo abbastanza bene però mandiamogli fuori anche qualche arciere in più da qua da qua da qua e quest'altri o questo facciamo qui perché più che altro ho capito che colpiscono qua la qua sta riparando abbastanza bene diciamo aspettiamo un po' gli arcieri o attacchiamo attacchiamo proviamoci proviamo a vedere com'è la situazione qua ecco non è non è tanto buona però ne manco tanto male dai 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 se può fa se può fa più che altro c'è ah qui la spingarda la cosa qua si la spingarda credo che sia attacchiamo qua troviamoci dai attacchiamo questi forza non lo so non lo so non lo so non lo so proprio vediamo qua che fare tutti su questo tutti su questo qua qua bruciamolo 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 forza bruciatelo andiamo qua a proteggere un po' qui qualcosa accade eeey speriamo bene ok qua abbiamo fatto il nostro qua vediamo dargli fuori altri cosi intanto altro oro aspettiamo un attimo qua vediamo qua come si evolve la situazione allora mandiamo questa a riparare più che altro la porta e mandiamo qualche cavallo ah ce l'abbiamo qua ok mandiamoli però qualche cavallo gli lo devo mannare con potenziamento e andiamo e poi facciamo anche con questo tanto qua attaccano cavallo cavallo ma no non possiamo ah qui che stanno qua stanno attaccando allora andiamo qui andiamo qua eh maledizione però vai vai damogli poco a questo almeno e ff famo così non ho cibo ok qua andiamo qui a dargli poco qua vediamo che cosa accade vediamo mannate quasi vediamo dategli poco a questa più che altro a questa dategli poco così almeno non c'è mai problema dopo eh non ho cibo maledizione non ho cibo ah perché ha impiso tutti i popolani ecco perché maledizione qua ancora che attaccano qua eh ci proviamo con questi proviamoci non lo so eh proviamoci dai basta provarci mettiamoci sulla posizione elevata per i aceri più che altro dai 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 che ne andiamo qua dai 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 eh non lo so non lo so se ho fatto bene probabilmente no cerchiamo di ritornare alla base se possiamo eh qui attaccano no 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 oh quanto è difficile sto gioco allora sto costruendo una fortezza qua intanto qua ho messo questi qui che non è molto però insomma ce la possiamo anche giocare benissimo prendiamo un altro po' di pietra qua comprandola ovviamente vendiamo un po' di legname che legname non ne abbiamo più dove dobbiamo andare qua allora riflettiamo meglio andare a fare il legname qua secondo me il legname poi abbiamo altri quattro cerchiamo di metterli qui questi lavoratori perché mi servono dopo per fare un'altra fortezza ok qua hanno fatto da muove hanno fatto ok questi tre mi vanno bene qua quest'altri facciamo un po' di legname che ne abbiamo veramente poco ok andate a fare il legname allora io proverei ad attaccare lì ci sono riuscito prima perché non riuscirci adesso cos'è questo l'SC accampamento vediamo ah pura le cose ok intanto facciamo così ok andiamo ad attaccarli muoce stanno qua allora vediamo cosa fare cosa è meglio fare intanto questi salvataggi di partita in corso che bloccano il gioco questo è morto stiamo così però l'accampamento dovrebbe curare anche le altre cose attaccano da qua attaccano da qua i maledetti vabbè meno male che qua c'è un po' di cavalieri diciamo diciamo sono cavalieri ok questi possiamo anche distruggerli qui se ce la facciamo forza perché ho pochi cosi qua loro lo sanno che qua ne ho pochi non ho più oro infatti allora facciamo qua vediamo che possiamo fare per il momento è così qua ci sono i balestrieri però facciamo qua e facciamo qua vabbè pochi balestrieri diciamo vendiamo un po' di legname e facciamo questa bella cosa qui mettiamo altri altri qua sopra questo non devo andare questo io bruciamo questi vediamo come stanno avviciniamoci un po' qui così ci attaccano qui i cavalieri di loro vediamo come fare mettiamoci qua magari ok stanno attaccando perciò dovrebbe essere più facile ucciderli dai però che modemmo a saltare qua e vedere che succede allora proviamoci dai proviamoci dovremmo andare di qua o di qua proviamo di qua tantomeno gli bruciamo però se venite qua ecco e gli arcieri che si muovono che cosa si muovono a fare gli arcieri allora dai dai facciamo un po' la ritirata facciamo un po' di ritirata dai dai eh non ci cascano va bene va bene lo stesso va bene lo stesso va bene così li abbiamo anche sorpresi in qualche modo ok andiamo qua uccidiamo i balestrieri qua sono parecchi eh ok ritorniamo la base qua quant'anto sono entrati maledizione una maledizione proprio mamma mia oh ok mettiamoci qua con questi hanno riconquistato tutto maledizione allora andiamo qua vedere quello che si può rimediare rifare non abbiamo più cavalieri qua eh perché non c'è nemmeno più la cosa la scuderia dannazione c'è un solo cavaliere praticamente allora facciamo qua ta 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 e ta ta poi eccoli eccoli d'arte mamma mia andiamo qua e costruiamo qui però non adesso tanto qui questi stiamoci qua cerchiamo da far fuori questi e poi ricostruire le mura almeno ok ok e quelli sconfitti andiamo forza ricostruisci queste mura queste intanto non ci preoccupano più di tanto però insomma stanno dentro le mura allora possiamo stare abbastanza bene così però quello che mi serve qui sono cavalieri adesso ho cavalieri o no cavalieri per forza però non ho non ho la i soldi si i soldi l'oro vediamo dobbiamo rifare tutti i cavalieri e non ci voleva questa cosa ecco ecco troppi pochi ma perchè vanno qui quando dovete attaccare qua io non vi capisco proprio non lo so davvero perchè ci stanno tutti sti bug vabbè quantomeno non sta distrugge invece dai eh mmm qui non devono entrare entrare al castello assolutamente no hanno distrutto qualcosa no mettiamo magari più arcieri non so più quello che devo fa' sì ma arrivano pure le arti addio troviamo a conquistare lì la vedo proprio brutta proviamoci dai ci dobbiamo provare e vediamo cosa accade dai 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 bruciamo qua intanto dovrebbero essere pochi quelli ok andiamo indosso a questi più che altro che sono quelli più pericolosi ok bene così benissimo così direi meno che qua sono entrati no non sono entrati ah no sono entrati e come però facciamo così mettiamo tutti i cosi mo ok io credo che non sia finita qua perchè non dico che è stato facile però insomma salvadaggio partita è in corso ok vediamo che fare abbiamo vinto ok e quindi no l'ondata finale no lo sapevo che non era finita mannaggia la miseria e veniamo tutte il legname che c'avemo che vedevo di dov'è l'ondata questa è l'ondata fino a andiamo forse questa magari forse questa allora fammo una cosa no andiamo qua vediamo quello che dobbiamo fa allora mettiamo tutti qua dentro no qua dentro voglio tutti qua dentro e quest'altri aiuta vediamo se veramente no non è l'ondata finale per niente ritorniamo qua ragazzi ritorniamo qui allora qui cosa stanno a preparare allora dove eh qua diventa una guerra mo allora diciamo che qua sto messo abbastanza bene però mi servirebbe andare qua vediamo un pochino qua che ci proteggiamo con i castelli qui una brutta faccenda però potremmo anche gestirla la stiamo gestendo abbastanza bene direi mettiamo tutti i arcieri non ce ne frega niente ok vediamo come va la situazione è un po' una rotta è un po' una rotta però se gli avamo andiamo qui andiamo qui a bruciare queste cose ci proviamo dai se riusciamo a bruciargli quello loro non passano più effettivamente stanno morendo però dobbiamo di ucciderli dai 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 forza che non devono entrare dentro le mura questo è l'importante non devono entrare dentro le mura qualcuno qui e qualcun altro qua anche da dove attaccano da qui ok ci sta anche che attaccano da là mettiamoli qui dovrebbero essere questa l'ultima andata ti pare non lo so no perché sono andati a fini qua vabbè andiamo andiamo non fa niente l'importante è fare molti di questi dai forza 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 il legname non ce n'è più per fare altri potenziamenti diciamo che qui stiamo abbastanza messi bene ok magari qui dobbiamo stare attenti a questo ma niente di più ok qua stanno abbastanza stanno a venire abbastanza bene giù questi possiamo provarci andare qua a vedere cosa succede abbiamo due castelli insomma mica poco allora vediamo qua cosa andiamo balestrieri vediamo vediamo dai 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 ammazza li ammazza li ammazza li abbiamo ammazzati questi altri vediamo come va qua andiamo a ammazzarli forza forza allora qua sono morti e mo mancano questi siamo vinto mandamogli tutti addosso e sono rimasti solo questi li mandamogli tutti addosso mamma mia quanto c'è voluto ho dovuto fare il taglio perché ho dovuto ricominciare non si sa quante volte un livello difficilissimo ragazzi un livello non potete immaginare nemmeno sembra facile qua che ho vinto così ma dovuto proprio di cominciare le partite era brutto farvelo vedere sempre le stesse cose vediamo che è successo dobbiamo distruggere giusto questa sembra potremmo attaccare qua io non lo so perché è tutto rosso lì mi pare che abbiamo vinto ti è Enrico come te chiami mamma mia mamma mia mamma mia godiamo se è firmato quello che è quanto c'è voluto avevano sconfitto l'assedio di re Stefano al castello di Wallenford dopo oltre dieci anni di conflitti la presa al trono da parte di Matilde era ancora viva ho perso io dieci anni di vita mia ha fatto livello e abbiamo vinto mettete mi piace condividete iscrivetevi attivate la campanellina almeno l'arancione vi saluta vi aspetta nel prossimo gameplay che mi dovrò riposare però ciao